Cari ragazzi siamo qui in un nuovo video, siamo qui pronti per fare un nuovo mini games Questo si chiama Bad Wars ed è presente sul server di Lel Craft E quindi cos'è l'obiettivo di questo? L'obiettivo è quello di prendere dallo spawner di... Lì c'è il bronzo, qua c'è il ferro e là al centro c'è l'oro L'obiettivo è quindi quello di andare al centro, prendere l'oro e quindi fare tutto il resto Ok, sopra mi serve il resto dell'armatura 1,2,3 L'altro ferro E adesso mi serve un piccone Ehi zio, 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 zio Evidy Grazie Eh, no, sarebbe piccone, guarda, grazie 4 di bronzo, non importa Della fame Un po' di costruette E dei blocchi 4 blocchi, mi serve un blocchi proprio Perfetto Perfetto, però non ci serve Ah, ci sono due tattiche di giocare questo La tattica A, diciamo La prima tattica Che è quella In cui Eh, giochi Normalmente, no E non ti colleghi al centro Nel senso, stai qua Farmi Tutto E non ti colleghi al centro Seconda tattica Rashi come non so cosa Io sto utilizzando la seconda tattica Come vedete Qua Siamo pronti Parkurissimo Spero che non abbiano l'arco No Ok, perfetto È stato corrì Corri Chiamo via Sto a morì Raga, stanno arrivando E li ho portati qua Guardate Che bravo che sono Perfetto A parte questo, dai In teoria non devo portarli alla base Guarda, tutto questo che fammelo prendere a me Si è suicidato È schifo È schifo tanto Vabbè Abbiamo lui Sì 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 Quattro di or Perfetto Tre Con una No 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 raga No 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 Salvati 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 Per favore Allora ok Ho quattro di oro Non posso Ok stavo dicendo che con quattro di oro Cioè diciamo con uno Con uno di oro la freccia E con tre l'arco di punta uno Quindi Adesso stiamo risalendo Con fortuna Io ho tanta bella roba Ho un arco Ho una freccia No C'è a zardare A colpirmi Ho un arco di oro Ho un arco di oro Perfetto Serve il cibo Ok Il momento Dove mi tornare a casa con Sei di oro E zio Sto morendo per il cibo Ah ma i salvataggi Sto si Le omega Le ure acciarine Tritolo Va bene Eh Abbiamo preso quello che ci serviva Però io questo lo devo mettere in una cassa Si Eh Dare una cassa No Fare una cassa No Dove avere una cassa io se non sbaglio qua Dove avere roba dentro Infatti non c'è nulla Ha detto proprio Abbiamo tutto ragazzi C'è stato solo la buona volontà E la voglio di andare A parte questa è a fila dezza 2 Quindi toglie un sacco di danni E poi c'ho anche l'arco Tanta roba raga Vorrei trovare una cosa da Clive Non rispiamo il parkour Delazzi Ciao Uh Furb Bravi però Bene Perfetto Fuori questo Fuori questo A casa Perfetto Dove è il letto Dove è il letto Non lo vedo Perfetto Tozzo il letto Ok dove sono Lì vanno quasi conquistate Ragazzi Troppo bella quella parte Dove è che sei Vince Benvenuto Woohoo GG ragazzi GG E noi ci becchiamo In un prossimo video Ciao Ciao